Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Connettere l'Ambiente. Oggi ci troviamo al Lago Campagna e siamo qui con Gabriele Povo di Città Metropolitana di Torino. Gabriele, perché ci troviamo qui al Lago Campagna? Questo è uno dei laghi più naturali del complesso dei Cinque Laghi di Ivrea, una zona di grandissimo valore naturalistico, geologico, storico e ambientale che fa parte di un'area ancora più importante che è quella dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea. L'Anfiteatro Morenico di Ivrea è stato costruito dal ghiacciaio Balteo che ha operato in questa zona da un milione fino a ventimila anni fa e ha lasciato questo residuo che è molto importante perché andrà a costituire a breve un parco naturale. Attualmente è una zona speciale di conservazione per la biodiversità in base a una serie di normative e direttive di carattere europeo. Inoltre sappiamo che in quest'area è presente un processo di istituzione del parco. Come mai? Che azioni sta facendo Città Metropolitana di Torino in questo ambito? Proprio per la grande importanza ambientale naturalistica di quest'area si è deciso sei anni fa insieme ai cinque comuni che fanno parte del futuro parco di chiedere alla Regione Piemonte attraverso la realizzazione di un dossier di candidatura l'istituzione a parco naturale di quest'area che verrà gestita da Città Metropolitana di Torino come gli altri otto parchi attualmente esistenti. L'importanza di questa zona viene quindi valorizzata ed è stata valorizzata attraverso una serie di progetti che sono iniziati in modo comune a partire per esempio dal progetto Luigi che è un progetto europeo che ha visto l'analisi e la valorizzazione dei servizi ecosistemici forniti dall'area e poi una serie di altre iniziative di coinvolgimento dei territori che ha visto per esempio alcuni consulenti che poi ci spiegheranno più nel dettaglio i progetti attraverso esperienze di tipo fotografico con la realizzazione e l'elaborazione di un glossario cioè di un vocabolario di parole specifiche con lo scopo di coinvolgere i cittadini per far comprendere loro i termini esatti, i termini naturali, i termini ambientali più specifici per poter essere in grado di dialogare insieme Abbiamo parlato con Gabriele Bovo di un glossario a parlarcene oggi qui c'è Viviana di Paesaggi Sensibili Ciao Viviana Ciao Di cosa tratta il glossario? Ce ne puoi parlare più nello specifico? Certo, volentieri Il glossario è stato concepito come uno strumento fondamentalmente per decifrare la complessità di questo sito partendo però proprio dal riconoscimento di quelli che sono i valori naturalistici in quest'area contenuti, quindi insiti di questo luogo e anche però il quadro normativo che oggi già li tutela è stato un processo piuttosto lungo e complesso, nel senso che è stato un processo di ascolto del territorio abbiamo avuto la possibilità di incontrare attori e realtà locali biologi, ecologi, geologi, quindi esperti tematici e tecnici di settore Il glossario in qualche modo ci ha permesso di mettere a sistema tutte queste competenze e conoscenze che ci sono già su questo territorio ma che non sono ancora, come dire, diffuse e condivise con la collettività Come siete riusciti a creare, a strutturare questo glossario? Sono 40 voci e ovviamente sono in ordine alfabetico però le abbiamo anche in qualche modo organizzate e raggruppate in quattro categorie tematiche Quindi, la prima categoria riguarda i sistemi e i processi naturali quindi abbiamo le voci come acqua, aree umide, boschi, ecologia, sostenibilità Una seconda categoria riguarda la dimensione antropica quindi la nostra presenza, cosa comporta su questo territorio e quindi turismo, sport, educazione ambientale però anche citizen science, per esempio, o green jobs che sono dei termini nuovi Una terza categoria riguarda invece un po' la sfera culturale del territorio quindi culturale e sociale del territorio e allora i termini affrontano anche la questione dell'identità territoriale di questi luoghi visione, per esempio ma anche comunità consultiva e tavolo del parco che sono degli organi collettivi che non esistono ancora che verranno introdotti nel momento in cui nascerà il parco dei Cinque Laghi di Ivrea e che in realtà sono organi che attuano in qualche modo il coinvolgimento L'ultima categoria riguarda i fattori della conservazione cioè sono quei termini che ci permettono di ragionare e riflettere su cosa vuol dire conservare i sistemi naturali e quindi parliamo di coesistenza, parliamo di cura parliamo di vincoli, per esempio di regole e quindi in questo modo tutte insieme queste parole danno voce a quelli che sono i temi, gli argomenti che andranno acquisiti all'interno degli strumenti di gestione del parco diventeranno uno strumento di dibattito, uno strumento che andrà a stimolare un confronto col territorio perché, come dire, la creazione, la nascita di quest'area protetta che sarà il parco dei Cinque Laghi sia in realtà una scelta consapevole e condivisa col territorio Perfetto, grazie mille Viviana ringraziamo te, ringraziamo Gabriele Bovo e il gruppo di Paesaggi Sensibili e Città Metropolitana e ci vediamo nella prossima puntata Grazie a tutti